E' altrettanto compatto? Non sarà il nuovo centrodestra? Intanto siamo molto contenti che finalmente si sia concluso questo congresso continuo e perpetuo all'interno del Partito Democratico. Faceva solo male alle riforme costituzionali. Siamo quindi contenti che la maggioranza sia compatta e siamo contenti che siano state ricepite anche le osservazioni di area popolare ricepite anche dal Partito Democratico per un miglioramento della riforma costituzionale sui punti che avevamo tra l'altro noi sottolineato che non permetta però di ripartire dal via cioè di riniziare come al solito da capo nelle riforme costituzionali. Per quanto riguarda il gruppo di area popolare sia la Camera del Senato è assolutamente compatto perché noi abbiamo uno scopo che è quello e ci siamo dati uno scopo politico che è quello finalmente di passare dalle parole ai fatti e di cambiare questo benedetto Paese. E le riforme costituzionali sono un elemento fondamentale di cambiamento. non abbiamo mai messo in correlazione l'approvazione delle riforme costituzionali ad un eventuale miglioramento della legge elettorale credo che sia legittimo visto che la legge elettorale che è stata approvata che è una buona legge elettorale entrerà in vigore solo alla fine del 2016 molto probabilmente nel 2017 dopo il referendum e quindi credo che abbiamo depositato una proposta di legge per migliorare ulteriormente la riforma elettorale e su questo maggioranza e opposizione con i tempi che l'iter parlamentare prevede ne discuteranno. Un'ultima domanda l'annunzio a De Girolamo ieri ha lasciato ufficiale